Sky non la fa domanda, no gliel'ho chiesto ma ha detto che non la fa Benvenuti alla conferenza stampa di FC Internazionale in vista della gara di domani contro il Barcellona l'ultima del gruppo di Champions League possiamo cominciare con le domande per il nostro allenatore Antonio Conte e il nostro giocatore Diego Godin prego prego MinSport buongiorno sono qua domanda per il mister la partita di domani è la più importante da quando lei è all'Inter più importante del della tua gestione dell'Inter sicuramente è una partita è una partita importante anche perché ci giochiamo il passaggio del turno ci giochiamo la qualificazione in Champions League sicuramente un momento importante per noi perché se andiamo a riavvolgere un po il nastro ci accorgiamo che quando ci sono stati i sorteggi si era parlato di un girone molto molto difficile per per l'Inter in virtù del Barcellona del Dortmund e del Praga che non dimentichiamo l'anno scorso aveva fatto anche molto bene in Europa League quindi il fatto di di essere di essere arrivati all'ultima giornata la possibilità di giocarci il la qualificazione in casa contro una grandissima squadra contro il Barcellona ci deve dare grande soddisfazione grande orgoglio una partita importante perché con un risultato positivo vincendo la partita comunque con lo stesso risultato del del Dortmund andremo al prossimo turno sarebbe importante per per tutti per per l'ambiente per i calciatori perché continueremo a fare un'esperienza in Champions visto che comunque tanti di noi non sono dei grandi frequentatori non sono stati dei grandi frequentatori mi ci metto io per primo perché per me questa è la quarta Champions League sarebbe importante ecco andare andare avanti prego Antonio Gemma Soleil Espien per voi credo che è positivo che il Barcellona non è l'Italia non capisco vale parlo poco è positivo che il Barcellona già stai clasificato che possa dare descanso a hombres importanti vediamo se Messi o che che è già relazato o credo che non che un Barcellona tranquillo in questo senso può essere anche peligroso guarda stiamo parlando stiamo parlando del del Barcellona stiamo parlando di una comunque delle squadre più forti al al mondo con una rosa di giocatori molto molto forte perché ehm loro sono 4-5 squadre che partono ogni anno con l'obiettivo di vincere tutte le competizioni e se vuoi avere questo obiettivo di vincere tutte le competizioni significa che la rosa deve essere composta da 20-22 giocatori tutti molto forti quindi ehm io penso che da parte del Barcellona ci sia la serenità del primo posto ma al tempo stesso c'è anche la serenità di venire a giocarsi la partita ehm senza grande pressione e questo può anche essere un cioè può essere un aspetto un aspetto positivo perché la pressione a volte può può appesantire le gambe no? può crearti dei problemi detto questo noi dovremmo pensare molto a noi stessi ad affrontare noi la partita nella nella giusta maniera e cercare di essere di essere bravi noi quello che dirò ai ragazzi ecco di non noi non dovremmo avere recriminazione alla fine della partita noi dovremmo aver dato tutto sapendo di che a volte dando anche tutto contro squadre come il Barcellona a volte non non basta lo chiedo entrambe ciao Antonio e anche Diego ehm qualora dovesse andare bene quale può essere l'obiettivo per l'Inter in Champions dopo questa sfida? ma guarda cioè in questo momento porre degli obiettivi futuri cioè viviamo la giornata ma dobbiamo vivere la giornata io mi sono posto l'obiettivo di arrivare a Natale nel miglior modo possibile perché voi sapete benissimo che ehm comunque stiamo affrontando una situazione non 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 semplice quindi viviamo la giornata la giornata dice che ehm domani affrontiamo il Barcellona e non affrontiamo l'ultima squadra e l'affrontiamo in casa nostra ehm con la possibilità vincendo di avere la certezza matematica di di andare di andare al prossimo turno questo questo ci deve dare coraggio ci deve dare stimolo ci deve dare entusiasmo capisco anche che porterà un po' di pressione però è come è come ho detto questa è una squadra che che ha bisogno anche di giocare questo tipo di partite così importanti di sentirle e di fare degli degli step però secondo me è molto molto importante vivere alla giornata andare step by step e non guardare oltre perché noi dobbiamo dobbiamo vivere la giornata il obiettivo 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 ci sono posito nel partito di oggi non guardiamo più attenzione che il partito che è il più importante come dice il mister è un partito che a noi come equipi un gruppo che sta crescendo che è praticamente nuovo non va a fare crecer sicuramente questo tipo di partito è importante contro uno dei migliori equipi del mondo sicuro ti fa crescere e lo necessitiamo e credo che lo affrontiamo con ese entusiasmo con ese entusiasmo con esas ganas con esa ilusione che abbiamo tutti di fare le cose bene e credo che questo depende di noi di nessuno 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 e sappiamo che non va a essere facile però contiamo con il entusiasmo nostro con il entusiasmo di un San Siro mi immagino lleno con la gente orgullosa di noi e che se vanno del campo esperemo con la satisfazione di un risultato positivo però soprattutto perché abbiamo dejato tutto nel campo non possiamo mirare la cara a l'occhio e dire che dimos tutto per l'equipo per intentar la clasificazione a ottavos e in un gruppo dove è difficile dove è difficile dove è difficilissimo dove noi affrontiamo a un Dortmund che sta acostumbrato a competire in Europa che viene compitendo hace anni giocando fasi finali a un Barcelona e un Slavia Praga che realmente è un gruppo difficilissimo durissimo per tutti quindi l'obiettivo volvendo al principio della domanda è il di la domanda non pensiamo in altra cosa se viene il Barcelona non si gioca in la clasificazione noi non abbiamo opzione noi solo possiamo pensare in noi e intentar di la domanda di la domanda quando giocava a P.B. Spurs in China e quando giocava in la Liga contra Barcelona soprattutto il partito per la mattina soprattutto la defensa di Leo Messi ci ha insegnato le esperienze a loro con le due le esperienze non si viene mi ha enfrentato muchas veces Messi è un giudatore che tutti lo abbiamo visto giudere ma o meno sappiamo come gioca e credo che è un partito per l'equipo sempre contro l'Barcelona e quando ti affrontas a grandi individualità come tiene l'Barcelona lo più importante è il lavoro del equipo il lavoro colectivo per minimizzare sus virtudes e sus fortalezas e per noi intentar hacerle daño a un equipo che gioca bene però tutto se basa nel il lavoro coletivo lo che teniamo nel campo con il mister e lo che planteiamo e lavoriamo a partir di ayer e oggi intentando minimizzare sus virtudes in defensa e intentar hacerle daño perché tenemos che che chiederti riguardo la partita dell'andata l'Inter per 60 65 minuti fece anche meglio del Barcellona volevo capire se quest'Inter qui è più forte nonostante l'assenza è più forte a livello di maturità di quella lì grazie è passato penso sono trascorsi due mesi quindi sicuramente la squadra comunque ha affrontato altre partite abbiamo abbiamo avuto altri altri step penso che a Barcellona giocavo sicuramente una buonissima partita con grande coraggio con personalità con grande voglia poi alla fine il Barcellona vinse la partita con delle giocate con delle giocate importanti è passato un po' di tempo è passato un po' di tempo siamo cresciuti sotto alcuni aspetti cambieranno gli interpreti della partita di andata perché comunque ci sono degli infortuni già da da un bel po' di tempo è inevitabile che prepareremo la partita cercando di di esaltare i nostri peggi le caratteristiche dei calciatori che dovranno andare in campo domani cercando ecco di di contenere un po' i pregi del del Barcellona ma sappiamo benissimo che sarà comunque una partita una partita difficile dove ci saranno dei momenti in cui soffriremo se pensiamo di non soffrire il palleggio del del Barcellona siamo del saremo degli degli stolti perché lo soffrono tutti però noi dovremmo essere al tempo stesso molto bravi compatti nella fase di non possesso riuscire ad essere coraggiosi nella pressione e al tempo stesso quando abbiamo palla dobbiamo cercare di fare determinate cose che possono creare problemi al al Barcellona eccomi qua ciao due cose velocissime una domanda ok allora chiedo a Diego cosa abbiamo giù abbiamo giù e in Liga, ovviamente, e come diceva il mister, è un equipe difficilissimo, che sappiamo che ci va per momenti a fare sufrir, abbiamo bisogno di stare preparati, noi, gli aficionati, per i momenti più difficili, è tentare aiutare al equipe, che è importante, e sapendo che il partito dura 90 minuti e che la concentrazione deve essere in ogni minuto del partito al massimo, perché sono giocatori che, che è un equipe che tiene giocatori che in qualche momento e in qualche giocata possono fare daño, già che sta preparato per questo, e preparato mentalmente e sapendo che in la fase defensiva noi stiamo preparando per intentar atacare e intentar fare daño, quindi credo che tutte le fasi del gioco di mañana sono importanti, tanto in defensa, soprattutto, e in attacco quando siamo contundenti e agressivi a l'ora di fare daño. Però partito con il Barça ha giocato 1000, e tornando al principio di risposta della domanda, il che più ricordo con cariño è il del 2014, la finale della Liga nel Camp Nou. Buongiorno, Laura Brugues, di TV3 Catalunya, la mia domanda è per Godin. Quando visteis che il Barça arrivava a Milano già classificato e come primo di gruppo, ti ha dato tranquillità o non? No, no, noi non pensiamo così. Come dicevo nella prima domanda, mi dico il mister, il Barcellona è un gruppo fortissimo, uno dei migliori equipi del mondo, che affronta al principio della temporada intentando ganare tutti i titoli, per questo necessita un gruppo di giocatori importanti, 20, 22, 23 giocatori di importanza e di nivel, non pensiamo in chi gioca, in chi non gioca, in che attitudi vanno a traere a San Siro, noi preoccupiamo e speriamo al miglior Barcellona, speriamo che il Barcellona venga con tutti i giocatori e che venga a fare un partito come lo fanno normalmente e che venga a ganare, perché è un gruppo che le exige a ganare ogni partito. Prepariamo il partito con esa conseguenza e pensiamo in noi fare lo miglior possibile, intentar preparare il partito in defenza della miglior forma e in attacchi per cercare di essere contundenti e cercare di ottenere il partito, che è quello che vogliamo. Però io non spero un Barcellona relajato, ne molto meno, spero sempre, ci prepariamo, sperando lo miglior del gruppo rival. poi vedremo come si va nel campo. Ancora il campo spagnolo? Grazie a tutti. E' stato un buon amico tuo, Antoine Griezmann. Queria preguntarte che ti parecio il ricevimento hostil che ha ricevuto la aficione del Atleti e se crede che si è equivocato fichando a la seconda per il Barca. E' stato un buon amico in questo non voglio entrare, perché dire lo che dire è polémica, quindi non voglio entrare. Lo che passò, passò. Antoine decidiu andare al Barcellona e già sta, è parte di questa professione che viviamo, sta dentro della relazione di gioco e, bene, lo che vivi nel Wanda è normale, è normale perché quando si va un jugador al qual la gente vuole tanto e le necessita tanto, è normale che se decide irse e dà il equipo, poi quando vuole la gente non te reciba con il mejor animo, il mejor cariño. È entendibile e Antoine seguramente lo entiende e lo entiende perché lo ha parlato con él. Quindi è parte del fútbol, viviamo questo nel dia a dia e, bene, la gente di Atleti dentro di anni lo ricorda con cariño per tutto lo che ha fatto dentro del campo e tutto lo che ha dato al club in sua storia, è parte di questo gioco. Tutto sport? Sì, Antonio, buongiorno. Dopo la partita con la Roma hai fatto, hai un po' chiamato alle armi, tra virgolette, san siro il pubblico. Che risposta ti attendi per domani sera dallo stadio? Se può essere un fattore in più per comunque farvi ottenere il risultato che inseguite? ci aspettiamo energia, tanta energia positiva dal nostro stadio, da tutti i settori. Ci aspettiamo in qualunque momento della partita energia positiva che possa aiutare la squadra a cercare di superare questo ostacolo che è un ostacolo molto molto grande. Quindi mi aspetto tanta energia e sono sicuro che arriverà tutta questa energia per i ragazzi, tutta energia positiva. come ho detto, affrontiamo questa partita con l'intento di cercare di andare tutti tutti al prossimo turno. Quando mi riferisco a tutti i calciatori in campo, il nostro tifoso sugli spalti bisogna perseguire tutti insieme questo prestigioso traguardo perché per noi sarebbe un traguardo prestigioso e quindi sono convinto che avremo tanta energia positiva per tutta la partita. Corriere della Sera. Buongiorno Antonio. Volevo chiederti questo. L'Inter arriva alla partita col Barcellona mentalmente forse al suo massimo nel senso che arriva da una bellissima cavalcata in campionato o prima in classifica. Di contro non ci arrivi con tutti gli uomini a posto, cioè hai molte defezioni. Cosa pesa di più sulla bilancia di queste due cose? Cioè la spinta mentale può compensare quello che non c'è dal punto di vista numerico degli uomini? Sì assolutamente ma questa comunque è una situazione che non è è da un po' di tempo che noi stiamo convivendo con questa con questo tipo di situazione e come ho detto in precedenza l'aspetto positivo di questa situazione un po' difficile è che tanti ragazzi stanno stanno crescendo si stanno responsabilizzando ancora di più e stanno crescendo proprio a livello a livello singolo per cercare di colmare un pochettino la difficoltà che noi stiamo avendo a livello di rosa in questo momento. Mancano tre partite per la sosta di Natale. C'è l'entusiasmo giusto anche questo questo miniciclo fino adesso lo stiamo facendo nella giusta maniera con la giusta interpretazione dobbiamo continuare ma dobbiamo continuare così e cercare di dare tutto tutto quello che abbiamo forse qualcosina anche in più perché soprattutto domani domani dobbiamo sapere che non ci sarà poi un seguito eventualmente se non dovessimo vincere o comunque ottenere lo stesso risultato della Borussia Dortmund e questo ci deve dare entusiasmo ci deve dare forza e voglia di andare tutti insieme oltre l'ostacolo sapendo ripeto che sarà molto molto difficile ma le difficoltà forgiano le difficoltà ci devono esaltare e nelle difficoltà l'importante è uscire a testa alta e noi sicuramente faremo così domani quindi stava spagnola per parlare del partito di domani che è trascendental per noi e importantissimo, già sai il carino che ho per il club le deseo lo meglio, non mi va a poner a analizzare ora il momento del Aletti, ni del Cholo e molto meno, credo che non corrisponde e come ti dice, abbiamo noi per davanti cose molto importanti per giocare di domani e siamo concentrati in questo entiendemi sta bene, però le deseo lo meglio sempre che sempre le deseo lo meglio spero che magari puoi passare e poi chiudiamo con te di Lombardia Ruggetto e io, di Mundo Deportivo non se si può fare una pregunta una per... una per Diego Diego, conosci molto bene a Luis della selezione, ora conosci anche molto bene a Lautaro si, dico conosci molto bene a Luis della selezione conosci anche molto bene a Lautaro per tenerlo qui in Barcelona si sta parlando di che Lautaro potrebbe essere il relevo perfecto per sostituire a Luis Suarez non se, se tu lo ves igual che destacariasi di lui e se si crees que tiene qualidades per triunfar nel Barça a ver... a Luis lo conosco, siamo amici lo conosco perfectamente es un grandissimo delantero de los mejores del mondo sin lugar a dudas e di Lautaro che ti posso dire lo vi giocare l'anno passato con un partito di fuori lo conosco ma di cerca creo che ha tenido una explosione un crescimento in questi mesi incredibile primero perché si siente importante si siente forte fisicamente e poi tiene le condizioni per farlo se oggi sta nel bocca di tantos club importanti del mondo perché sicuramente sta facendo le cose molto bene e perché tiene le condizioni per farlo oggi sta nel Inter uno dei migliori del mondo è joven tiene moltissimi anni per seguir dando le tantas cose a questo club e speriamo che così sia che sia con noi che ci sia aiutando e che sia facendo crecer al Inter però il Lautaro si anche tiene condizioni per seguir crescendo e per seguir migliorando moltissimo non ha un techo e tutti speriamo che il siga in questo cammino concentrato in fare le cose bene dentro del campo dandole goles e buone situazioni e lavoro per l'equipo perché il Lautaro non è solo goles è un giocatore che trabaja moltissimo per l'equipo e entiende che è lo che l'equipo necessita e speriamo che sia per questo cammino ciao Antonio buona giornata ti volevo chiedere alla gara d'andata ti eri molto arrabbiato per quelle sensazioni che avevi dalla panchina riguardo alla mancanza di rispetto che c'era stata anche nei tuoi confronti anche da probabilmente nella direzione di gara pensi che con quello che stai facendo e quello sta facendo l'Inter domani sarà una gara dove avrai più rispetto cioè avranno più rispetto di te e di tutto dopo quello che ti era successo all'andata io a prescindere da gara non gara chiedo sempre rispetto per me soprattutto chiedo rispetto per la mia squadra per i miei calciatori è inutile tornare indietro cioè bisogna sempre guardare avanti anche perché voltarsi indietro non serve a niente cerchiamo di guardare a domani domani è la cosa più importante per noi domani sarà un'altra partita cerchiamo di essere belli concentrati focalizzati sull'obiettivo l'obiettivo è la partita l'obiettivo è il campo l'obiettivo è cercare di dare il massimo e passare il turno poi il resto il resto verrà da sé grazie buongiorno a tutti grazie buongiorno grazie a tutti grazie a tutti